Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'ISCHIN NANO LR3, telaio da 3 pollici per micro long range. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo i braccietti in fibra di carbonio, il corpo principale in plastica, due piedini in TPU, due porta batterie 18650, la viteria per assemblarlo, tre fascette e due elastici. Infine abbiamo il manuale di istruzioni, ed un set di adesivi ISCHIN. Lo spessore per entrambi i braccietti è di 2.5mm. Per quanto riguarda il corpo principale il manuale riporta essere in PTG, tuttavia è abbastanza evidente che non si tratta di una stampa 3D. A questo punto passiamo subito ad assemblare il frame. Iniziamo dai porta batteria, uno andrà nella parte superiore, l'altro in quella inferiore. Riconosciamo il porta batterie da mettere sopra perchè ha 4 fori sul lato, mentre quello da mettere sotto ne ha 2 qui. Per ora prendiamo quello da mettere sotto e mettiamo da parte l'altro. Posizioniamo la parte centrale sopra il porta batteria e lo blocchiamo con 8 viti. Adesso prendo il porta batteria superiore e i due braccietti in fibra di carbonio, che andranno bloccati con 4 viti. Ok ho sistemato i braccietti, quello anteriore va messo in corrispondenza del polo positivo. A questo punto sistemo il porta batterie con i braccietti nel frame. Ora metto 4 viti su questo lato e 4 sull'altro. Concludiamo la build mettendo i piedini in TPU. Perfetto, il frame è assemblato. Per montare il frame ho usato solo questi viti, tutte le altre servono per gli accessori. Abbiamo le viti per fissare lo stack, la videocamera eccetera. Il peso finale del frame è di 36 grammi. L'Interass è di 144mm e l'ideale è usarlo con eliche da 3 pollici. I fuori motore sono da 9mm e come dimensioni 12.03 e 13.03 o simili sono perfetti. L'elettronica da utilizzare è quella per i droni classe Toothpick, ovvero schede da 26x26mm aio ruotate di 45 gradi. Il formato per le videocamere invece è di tipo nano, ovvero 14x14mm. L'Hishin Nano LR3 riprende il progetto del Nano Long Range che ha avuto un discreto successo tra gli appassionati. Si tratta di un telaio da 3 pollici Long Range per microalimentati da una 18650mm. Ovviamente dobbiamo tenere a mente che un modello del genere non potrà mai coprire le stesse distanze di un 5 pollici o più grande. Tuttavia questo telaio va oltre il progetto originale perchè ci sono delle modifiche sostanziali alla struttura del frame. Nella parte posteriore possiamo notare l'alloggio per un GPS, periferica indispensabile quando si parla di Long Range. I modelli compatibili sono l'M80, il BN180 o qualsiasi altro modello da 18x18mm. Nella parte anteriore invece notiamo gli attacchi per un Action Camera, come Insta360 o simili. L'upgrade più importante però è la doppia batteria, in modo da creare un sistema Lion da due celle. Questo ci dà maggiore potenza, e sono molto convinto che un modello del genere possa trarre grande vantaggio da un sistema di alimentazione di questo tipo. Proprio per questo motivo ho deciso di assemblare un micro basato su questo telaio, e ho già tutte le componenti in modo da realizzare una video build. Se anche voi volete assemblarne uno, in descrizione vi lascio l'elenco delle parti che userò per costruire questo micro. In conclusione posso dire che questo frame sembra molto interessante per chi voglia cimentarsi nella costruzione di un Nano Long Range. La doppia batteria secondo me è un aspetto positivo, mentre la struttura in plastica non mi convince al 100%. Sicuramente dopo aver fatto la build ed un test di volo avrò decisamente le idee più chiare, quindi non perdetevi i prossimi video perchè parleremo ancora di questo telaio. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie per la visione!